in inverno o in estate avere i piedi caldi morbidi e vellutati è sempre una bella soddisfazione e secondo me è anche un segno di salute buona circolazione pelle elastica e idratata ma tu proprio vuoi l'impossibile sì se no che gusto c'è nella vita ma ora ti dico anche come ottenerlo questo benessere per i tuoi piedi come prima regola per la circolazione e l'idratazione ricordiamoci di bere tanta buona acqua naturale anche se è inverno e non viene sete spontaneamente come ho spiegato in questo video ci sono alcuni trucchi molto semplici per bere e restare sempre idratati e ora occupiamoci dei piedi ci sostengono e ci portano dove vogliamo ma teniamoli bene i piedi ecco una ricetta fai da te una coccola da dedicarci almeno due volte alla settimana il pediluvio con amido di riso e miele in una bacinella di acqua calda versare due cucchiai colmi di amido di riso due cucchiai rasi di miele cinque gocce di olio essenziale di kajeput mettere i piedi in ammollo al caldo per 15 minuti puoi frizionare con un guanto di crine e sciacquare bene con acqua tiepida l'amido di riso è un polisaccaride ricavato dalla farina di riso e ha un effetto lenitivo rinfrescante calmante e antiprurito il miele emolliente addolcente idratante l'olio essenziale di kajeput è un potente antibatterico antifungino antistanchezza e rinfrescante fa parte della famiglia del tea tree oil ma un profumo più delicato ed è molto adatto per i pediluvi invernali infatti mentre tieni i piedi a bagno i suoi vapori balsamici fanno bene anche alle vie respiratorie se ami anche tu la salute naturale metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao